Allora andò, mi serve una 13 Tengo la schedina, ma è da riempire La schedina, a capo è da riempire, la chiave 13 Ah ecco la chiave Quella piccirilla, che ci faccio con questa? Lo dicevo io, la piccirilla è più bella Ma che hanno fatto? La macchina a vapore Un altro aumento della benzina ci attaccheranno i cavalli Tu pensa a controllare l'olio e vedi di non combinare guai Buongiorno, desidera? Salve, è lei Salvatore Fontana? In persona Ho bisogno del suo aiuto Se posso, volentieri Vediamo subito Mi chiamo Saliani Sono il nuovo commissario della zona Mi ha parlato di lei il mio vice, Marino Dice che lei è un meccanico eccezionale Troppo buono Ma diamo un'occhiata al motore Io spero che ci sia rimasto qualche cosa Ultimamente l'ho trattato un po' male Eh sì Non è che io mi intenda molto di motori Pensa che si possa aggiustare? Me ne posso interessare volentieri Certo che gli ha dato una bella tirata Solo che ora me ne devo andare Tengo un appuntamento a cui non posso mancare Ci vediamo più tardi Nel pomeriggio Va bene Tengo un appuntamento a cui non posso mancare